Tempesta d'amore, anticipazioni diciannovesima stagione, Eleni e Leander saranno i nuovi protagonisti. Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete4 e sulla piattaforma streaming media Zplay Infinity. Le anticipazioni della tv soft di stampo bavarese, nato da un'idea di Bea Schmidt. In merito alla diciannovesima stagione raccontano che Eleni e Leander saranno i nuovi protagonisti. Eleni, figlia di Alexandra e Christoph, arriverà a Beeklein dopo aver scoperto che la madre ha ereditato le quote del lussuoso Hotel d'Ariane. Ma finirà per invaghirsi di Leander, figlio di Laura Maler e Alexander Sahlfeld. Malgrado sia stata cresciuta da Marques, Eleni potrebbe essere la figlia biologica di Christoph, ma se regnara di tale segreto. Leander, invece, arriverà nella città tedesca con l'intento di diventare medico e inizierà un tirocinio in ospedale. Il destino vorrà a che Eleni, sua paziente, diventi l'amore della sua vita. Figlio di Laura Maler e Alexander Sahlfeld, Leander sarà il protagonista della prossima stagione di Tempesta d'Amore. Cresciuto a Bruxelles tra il mondo alberghiero e quello della pasticceria, Leander preferirà non seguire le orme di mamma e papà, decidendo di provare a diventare un dottore. Poco dopo essere arrivato a B-Clean, il ragazzo comincerà un tirocinio in ospedale e sarà proprio in questo luogo che conoscerà Eleni. Paziente che diverrà l'amore della sua vita. Malgrado sia cresciuta con Marques e Alexandra, Eleni, la protagonista femminile della prossima stagione della S.O.P., potrebbe essere la figlia naturale di Christoph. La ragazza, però, sarà totalmente ignara del segreto legato alle sue origini. Ma nonostante ciò avrà a che fare con entrambi i suoi padri. Eleni sarà coinvolta nella lotta amorosa tra Marques e Christoph per far breccia nel cuore di Alexandra. Marques, dopo che la moglie lo ha lasciato per il suo amore di gioventù, inizierà una guerra senza esclusione di colpi. Quest'ultimo, però, riuscirà a incastrare per frode il marito di Alexandra e successivamente l'astio tra i due uomini si trasformerà in una colluttazione, dove Eleni cercherà di dividerli. Sarà a quel punto che la ragazza cadrà rovinosamente a terra sbattendo la testa. Verrà portata d'urgenza in ospedale, dove ci sarà Leander a prendersi cura di lei. Versando in gravi condizioni e necessitando di cure mediche o tre modo costose, Christoph si offrirà di pagare il tutto. A sorpresa la figlia di Alexandra deciderà di non cimentarsi in cure sperimentali oltreoceano. Preferendo invece rimanere a BigClaim insieme a Leander alle persone che le vogliono bene. A ridare la voglia di vivere a Eleni sarà proprio Leander, il quale arriverà anche a schierarsi contro l'Exandra pur di fare in modo che la ragazza possa scegliere liberamente dove curarsi. Il rapporto tra Eleni e Leander, da quel momento, prenderà quota e seppur coi soliti imprevisti tipici della SOP. I due ragazzi finiranno per non reprimere più i loro sentimenti e scatterà finalmente il primo bacio appassionato.